perdonami aiuto ma vada via il culo arrivo guarda che frettento non usciva il piede no no adesso ho tirato fuori anche se non so come tirar su la moto adesso la tiro su dalla ruota dietro Vito aiuto se tu la sollevi la manubrio la tiriamo un po' più su aiuto 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 20 è filmato? ma va? si vede un caldo no si vede la terra il problema che mi è rimasto sotto il piede girato non riesco più uscire fa un bagno ma hai preso dentro qua? no mi sei girato sotto mi sei girato sotto mi è rimasto sotto il piede dai però su ostia che cado ancora porca troia ma andò cioè ma non è possibile guarda guarda che mi trascina oh cazzo aiuto ma mi sembra un deficiente non ti centro te lo dico preparati non va guardi